Allora, no... Maria... Maria! Che com'è? Tu ancora qui stai? Io non sei andata a lavorare! Che loro vado a lavorare? Sto male! Ma non sto male! Che cosa ti è successo? Che è successo? Non lo vedi che sto male? E che non viene che in piena e mi sono sceso un divano, ci ho imprinti e ti ho preparato! E te l'ho detto il dottore? No! Il dottore non lo ha chiamato! ho preso il termometro e ho misurato la febbre e ho la febbre a 40 e fammi vedere il termometro fai ma senza fiducia tu fammi vedere il termometro va bene ma dai si aspetta e dai fammi vedere ecco ecco io lo sapevo hai 36 e 4 ma è 36 e 4 non vuoi 40 madonna mia madonna mia madonna mia io sto male